Sport Equestri con ponia di 2020, appuntamento con giovani amazzoni e cavalieri a cui l'Abruzzo non ha voluto rinunciare nonostante l'annullamento della tradizionale settimana prevista a Roma causa Covid. La Fise Abruzzo ha deciso così di proporre le suggestive competizioni entro i propri confini presso il teaterno Sporting Club di Chietiscalo. 150 atleti tra i 5 e i 16 anni si misurano in tutte le discipline olimpiche in rappresentanza di 55 circoli ippici tutti abruzzesi. Via libera così su Pony, a Horseball, Insurance, Pony Games, Salta Ostacoli, Gymcane, Dressage, tanto altro. La Fise ha organizzato una grande kermesse con grandi numeri, vera e propria mini olimpiade multidisciplinare dell'equitazione. Barbara Demassis è istruttrice Pony Games. Sono dei giochi tipo di abilità, dove i ragazzi devono spostare del materiale da una parte o un'altra e c'è la possibilità di correggere, possono rettificare nel caso in cui c'è un errore. È ovvio che se non si fa errore è meglio, perché chi prima arriva al traguardo vince e prende più punti rispetto poi a chi arriva dopo e lo scopo è quello appunto di fare una rettifica più velocemente possibile. Quindi l'ideale è mettere anche dei binomi in proporzione all'altezza, cioè magari un bambino di 4 anni monterà un Pony più piccolino, dai 60-80 centimetri. Poi mano a mano che i ragazzi crescono si ha la possibilità appunto di prendere dei Pony più alti, fino a 1,48 m al Garese sono Pony. Create dalla Federazione Italiana Sport Equestri nel 2006 come naturale proseguimento di quelli che erano stati fino ad allora i giochi della gioventù, le Ponyadi rappresentano al meglio la fusione tra l'attività sportiva equestre di base e l'aspetto fondamentale del gioco che nel bambino rappresenta una delle attività più importanti per il sano sviluppo della personalità e della socializzazione. Per la disciplina dell'Orsball parola a Nadir Radvan, istruttore del Rio Tavo, campione in carica Coppa Italia. Parliamo di Orsball, una sorta di pallacanestro rugby a cavallo dove lo scopo è quello di effettuare canestro, una palla con delle maniglie intorno che aiuta la raccolta e il passaggio tra i giocatori. Regole principali, bisogna fare minimo tre passaggi tra tre persone diverse, non si può tenere la palla in mano più di dieci secondi. È uno sport di contatto quindi per evitare contatti pericolosi le regole sono mantenere la stessa direzione, non si può intervenire con un'angolatura più di 45 gradi per mantenere tutto in sicurezza. Qui abbiamo le squadre esordienti, io sono il tecnico della squadra Rio Tavo SD, in questo momento siamo la squadra esordiente, abbiamo squadre su tutte le categorie, in questo momento siamo detentori del titolo abbiamo vinto la Coppa Italia a dicembre che si è svolta su unico evento e stiamo adesso crescendo con i ragazzini, stiamo portando avanti alla prima esperienza oggi e speriamo che possano anche loro raggiungere profei importanti.